L'Avezzano cerca la matematica della promozione in Serie D sul difficile campo della Torrese, con gli uomini di Cristofari che, quarti, cercano il pass aritmetico invece per i play-off. Dopo la debacle contro il penne, i marsicani sono vogliosi di tornare a fare punti e la prima occasione è una conclusione alta di Michele Bisegna. Poco dopo prova a rispondere anche la società di casa con un tiro debole di festa. Al decimo ancora Bisegna prova di impensierire il portiere Abate ma la sua conclusione è ben parata, quindi Antichi al venticinquesimo manda alto in mezza rovesciata. Il botta risposta sterile tra le due squadre si spezza alla mezz'ora quando su assist di Mbup in proiezione offensiva Gentile riesce a tenere la sfera in mezzo alla difesa vezzanese ed a scaricare in porta il centro del vantaggio per la Torrese. Dopo l'1-0 l'avezzano non riesce più a reagire nel corso della prima frazione e la ripresa si apre con i marsicani maggiormente determinati. Al terzo minuto uno slalom di Besana porta alla conclusione ben respinta da Abate. La palla scivola sui piedi di Dijan Felice che però in proiezione offensiva scarica debolmente e manda sul fondo. Intorno al ventiduesimo ancora pericolosa la Torrese dall'altro lato con un cross in mezzo di Selmanai che però non è raggiunto da Mastrilli quindi il raddoppio è cosa fatta a cinque minuti dalla fine della gara. Lo stesso Selmanai allarga per Di Federico che premia la sovrapposizione di Mastrilli e sul pallone tagliato verso il centro dell'area arriva Santi Rocco che fa 2-0 per la formazione locale. Lavezzano prova a reagire e l'ultima occasione al 41esimo proprio per i marsicani che con un tiro di blanco sul primo palo vedono la parata di Abate quindi sulla successiva mischia sempre in bup è decisivo sul tentativo di Dos Santos. Da lì alla fine della gara non succede più nulla e lavezzano non riesce ad approfittare del secondo match point della sua stagione per la Serie D. La Torrese accede matematicamente a playoff e festeggia il clamoroso successo sulla prima della classe. Dobbiamo vincere, la matematica ce lo deve dire, è ovvio, noi volevamo chiuderlo prima il discorso, non ci siamo riusciti un po' per demerito nostro, un po' per bravura degli avversari, anche se oggi devo dire che la squadra rispetto alla partita di Penne dove i primi 20 minuti non siamo scesi in campo, oggi la squadra ha cercato di fare la partita sempre. Se noi andiamo a vedere le occasioni, il loro portiere ha fatto due interventi, penso salva risultati, loro hanno sfruttato al massimo l'occasione che gli sono capitati perché ci hanno fatto gol alla prima azione che hanno avuto il primo tempo, dopo che noi per 20 minuti, 25 minuti stavamo facendo bene. Avevamo un vantaggio talmente considerevole che magari qualcuno ha pensato già che le cose siano già tutte finite, invece non è così perché poi le partite si complicano e se non sei bravo a interpretarle bene fai poi questo tipo di figure, no? Non una figuraccia perché ripeto oggi la partita della squadra l'ha fatta. Però, ripeto, se dobbiamo festeggiare domenica davanti al nostro pubblico lo faremo molto volentieri. E allora chiudiamo con una nota di colore, prima la Madonna di Pietracquaria e poi la Avezzano in Serie D. Sì esatto, noi abbiamo questo patrono, la festa del patrono di Avezzano dove ci si tiene molto e speriamo che domenica la Madonna di Pietracquaria ci dia la mano. Grazie Miss. Avevo qualche tentennamento all'inizio partita, insomma venivamo da due settimane nelle quali non avevamo fatto secondo me gli allenamenti con l'attenzione giusta, con la cattiveria giusta che ci contraddistingue. Avevo chiesto ai ragazzi se questo modo di interpretare gli allenamenti erano frutto del fatto che oramai siamo consapevoli della nostra forza e quindi oggi c'era bisogno di una prova di motorità. I ragazzi l'hanno fatto contro la prima della classe che vincerà meritatamente questo campionato e quindi veramente sono orgoglioso di loro ed è tutto merito loro di questo risultato di oggi. Playoff raggiunti matematicamente, non ci sono limiti a questo punto, no? Alla vostra stagione? No, noi a inizio stagione siamo partiti per fare un buon campionato, poi strada facendo la sticella si è alzata via via e ad oggi insomma i playoff sono il primo obiettivo, l'obiettivo minimo, adesso cercheremo di rosicchiare qualche altro punto se ci riusciremo, non sarà facile, però insomma noi ce la andremo a giocare senza assili, senza nessun tipo di timore riverenziale rispetto alle avversarie e quindi quello che verrà ci prenderemo.